Va in archivio il primo mese d'estate e il turismo pesarese esce deluso e preoccupato da un giugno in affanno con gli alberghi del lungomare che si sono ritrovati diversi incidenti di percorso che hanno creato disdette e non agevolato nuove prenotazioni. Vedi l'ondata di maltempo di maggio, vedi la psicosi d'acqua sporca o presunta tale che ne è derivata. Si sono avute anche voci incontrollate, notizie incontrollate su quello che era lo stato di salute delle nostre acque e delle nostre zone cose che nella realtà sono state molto molto contenute e a mio avviso c'è stato proprio anche un problema di comunicazione per quanto riguarda le nostre zone. Purtroppo questa ha portato a una carenza e a delle disdette nel mese di giugno speriamo di poter recuperare nei mesi di luglio-agosto visto che ormai ci lasciamo alle spalle anche questo evento le previsioni purtroppo sono ancora un po' attendiste però passato giugno speriamo di fare una buona stagione. I due fattori che hanno inciso sono l'aspetto economico, ovviamente se si continua così con i tassi e con il costo bancario sicuramente di famiglia sono in difficoltà, l'altra cosa è la campagna negativa che si è fatta sull'ambiente e sul mare. Questa deve essere una stagione eclatante, in discesa, in realtà è una stagione difficile da gestire. Ovviamente io parlo per tutti gli alberghi della città, purtroppo le presenze sono un po' deficitarie e quindi ci sono alcuni alberghi che sono veramente in difficoltà, sicuramente almeno dal lunedì al giovedì. Sostanzialmente poi chi ha provato a fare il B&B è ancora più in difficoltà però complessivamente c'è un calo di presenze rispetto all'anno scorso e quindi la cosa è preoccupante, quindi la stagione va gestita molto bene. Il mese di agosto è il mese più importante, quindi non credo che ci siano problemi però per luglio ancora ci sono delle difficoltà. Torno a ripetere, è una stagione in salita. Per il lungomare di Levante c'è poi anche una difficoltà legata ai lavori pubblici. Vedi i cantieri di piazzale d'annunzio che dovevano finire entro giugno e che invece avranno una proroga fino a metà luglio. Piazzale d'annunzio sono mesi che stimoliamo l'amministrazione a concludere i lavori e a rispettare i tempi. Vediamo che quotidianamente i lavori vengono svolti, quindi le ditte stanno lavorando, stanno lavorando bene. Oggi siamo il 30, dovevano essere conclusi i lavori, l'amministrazione ha chiesto qualche giorno in più. Speriamo che rispetti quest'ulteriore proroga dei tempi, anche perché siamo ormai in stagione, siamo a luglio e quindi la condizione anche di disagio per i turisti che vengono inizia a farsi evidente.